Ben trovati, ben trovati ad un nuovo video tutorial firmato FabioAmbrosi.it quest'oggi parleremo degli effetti audio in Adobe Premiere vedremo come inserirli, vedremo qualche effettino come un riverbero vedremo l'equalizzazione, non entreremo al solito nei dettagli perché questo rimane sempre un corso introduttivo ma ecco, per chi non ha mai lavorato in Adobe Premiere e vuole vedere come funzionano gli effetti audio questo è il video tutorial giusto ricordo anche www.fabioambrosi.it il mio sito internet per vedere l'elenco di tutti i tutorial fatti fino adesso troverete anche l'elenco dei tutorial che faremo nelle prossime settimane continuate a seguirmi, iscrivetevi a questo canale YouTube più saremo e prima faremo anche dei tutorial live dove vi daremo la possibilità di fare domande in diretta e se vi fa piacere c'è chiaramente anche la mia pagina Facebook lì daremo tutti gli annunci dei corsi in diretta, dei nuovi video tutorial insomma seguitemi anche su Facebook oltre ad iscrivervi a questo canale così avrete tutte le informazioni basta così, torniamo ad Adobe Premiere parliamo di effetti cos'è un effetto audio? vai, penso che ne abbiate abbastanza di spiegazioni teoriche volete vedere un po' di pratica e allora facciamo subito una cosa inseriamo un effetto audio questa è la mia voce la riconoscete, la ricordate perché l'abbiamo utilizzata quando abbiamo parlato dei keyframe è una voce normalissima non c'è nessun effetto ed è stata registrata dentro una stanza con un microfono ma ipotizziamo che io voglio simulare l'effetto di una chiesa voglio far finta di trovarmi in una grande cattedrale quindi con del riverbero dietro di me come devo fare? allora, gli effetti audio sono sempre effetti quindi li troviamo nel pannello effetti nella scorsa lezione abbiamo visto come sia possibile inserire effetti audio anche qui nel mixer delle tracce audio ma oggi vedremo come farlo nel pannello effetti cerco tra gli effetti la voce riverbero cerco l'effetto riverbero surround ma attenzione perché gli altri vanno anche bene e anche gli altri riverbero hanno altri preset da poter utilizzare quindi giocateci, questo è il mio consiglio perdeteci del tempo trascinate l'effetto che desiderate in questo caso l'effetto riverbero surround sopra la clip rilasciamo e ormai avete imparato, no? come si controllano gli effetti una volta inseriti nella clip o nella timeline bisogna aprire il pannello controllo effetti eccolo qua selezioniamo la clip e apriamo il pannello controllo effetti gli effetti audio ovviamente vanno alla voce audio quindi in questo pannello se selezioniamo solo dell'audio avremo soltanto chiaramente una sezione audio ma se questa fosse una clip audio video avremmo nella parte superiore i settaggi per il video e nella parte inferiore i settaggi per l'audio ma vabbè, qui abbiamo inserito il nostro riverbero surround clicchiamo sul tastino modifica ed ecco il pannello che ci viene aperto non vi preoccupate non è necessario che voi sappiate utilizzare tutti questi valori, questi parametri anche se è consigliato che voi giochiate un po' con questi effetti per capire ciascun parametro che cosa fa perché, sì, è vero ecco qui, c'è un elenco di preset da poter utilizzare quindi possiamo simulare che io mi trovi in un auditorium che io mi trovi in disco no, giuro che avevo letto in disco no, ok, in chiesa oppure in qualunque altra situazione però ecco imparare che cosa fanno questi parametri vi dà la possibilità anche di creare dei vostri preset perché no, di creare delle vostre configurazioni a seconda di quello che dovete fare ma nel caso mio specifico abbiamo detto che devo simulare di trovarmi in chiesa devo far credere alla mia ragazza di stare in chiesa in quel momento allora, clicco su in chiesa vedete che vengono cambiati i parametri e mandiamo in play mettiamo anche il loop in out e inseriamo il loop qui nella nostra barra di riproduzione e vediamo cosa accade questo è il trailer del mio canale youtube e del mio sito internet www.fabioambrosi.it wow, basta, basta ok, avete capito, no? chiaramente giocando con questi parametri è possibile modificare qualcosina facciamo una prova prova a muovere a caso vediamo cosa accade è il trailer del mio canale youtube e del mio sito internet www.fabioambrosi.it questo è il trailer del mio canale youtube e del mio sito internet www.fabioambrosi.it questo è il trailer del mio canale youtube e del mio sito internet www.fabioambrosi.it questo è il trailer del mio canale youtube e del mio sito internet www.fabioambrosi.it avete capito che potrei andare avanti per parecchio tempo bene, chiaramente ci sono dei preset se volete provare non so a trovare la configurazione a tutto metal non so che cosa sia ascoltiamo questo è il trailer del mio canale youtube ok, è l'effetto di trovarsi in una stanza metallica o comunque piena di materiale metallico giocate adesso è inutile che li guardiamo tutti quanti insieme ci sono tante configurazioni e potete fare voi le vostre prove ok questo per quanto riguarda il riverbero come detto ne esistono anche di altri tipi provateli esistono anche effetti di eco delay cercate delay mettiamo l'effetto applichiamo l'effetto e ascoltiamo che cosa succede con il delay e del mio sito internet www.fabioambrosi.it questo è il trailer del mio canale youtube e del mio sito internet www.fabioambrosi.it questo è il trailer del mio canale youtube e del mio sito internet www.fabioambrosi.it ok, avete capito che potete giocare e divertirvi come volete sostanzialmente basta scegliere l'effetto aprire le modifiche e giocare una cosa però molto utile da vedere è sicuramente l'equalizzazione cos'è l'equalizzazione? abbiamo detto all'inizio di questo blocco dedicato all'audio che ogni voce ogni suono ha delle frequenze caratterizzanti la mia voce avrà delle frequenze gravi basse la voce di una donna magari avrà delle frequenze più alte generalmente generalmente la voce dell'uomo ha delle frequenze ha molte frequenze nello spettro dei medi ok? adesso non entriamo troppo nei dettagli anche se è un argomento importante questo da studiare con l'equalizzazione possiamo sostanzialmente modificare il volume delle frequenze e del suono che stiamo lavorando cerchiamo equalizzazione esistono vari equalizzatori anche qui è impossibile che io in questo tutorial vi insegni ad utilizzare l'equalizzazione è a farla bene anche perché richiederebbe un corso intensivo da chi lo sa fare chiaramente questo è un mestiere quello di lavorare con il suono provate però prendete confidenza con questi esempi proviamo per esempio l'equalizzatore parametrico clicchiamo su modifica questo è un equalizzatore parametrico qui trovate le frequenze dei bassi qui trovate le frequenze degli alti e al centro le medie anche qua esistono dei preset per esempio radio old time vediamo che cosa fa la radio old time vedete come automaticamente premier modifica l'equalizzazione vediamo che cosa esce fuori questo è il trailer del ok è l'effetto di una vecchia radio no se dovete simulare non so una voce che viene da una radiolina questo potrebbe fare al caso vostro oppure vediamo quest'altro mio canale youtube e del mio sito internet www.fabbyambrosi.it .fabbyambrosi.it questo è il trailer del mio canale youtube e del mio sito internet www.fun ok avete capito più o meno lo scopo di questo di questo plugin adesso io l'ho molto banalizzato ovviamente non si utilizza in questo modo e non è nemmeno una scorciatoia per avere degli effetti carini come una vecchia radiolina in ambito professionale questo questo strumento l'equalizzatore parametrico ma anche l'equalizzatore normale che qui abbiamo a disposizione è uno strumento potentissimo che ci permette di migliorare anche di molti suoni eliminare frusci eliminare ronzi un fonico un tecnico del suono questo strumento e chiaramente vengono utilizzati anche dei software più potenti e preparati per fare questo tipo di lavoro come può essere un protools può essere un new end un cubase eccetera eccetera premiere ha questi questi strumenti messi a disposizione tra l'altro da Adobe Audition sono di derivazione di Audition vi ricordo www.fabioambrosi.it sito dove troverete l'articolo anche di questo tutorial iscrivetevi a questo canale youtube fate iscrivere anche i vostri amici passate parola e cercatemi su facebook trovate la pagina Fabio Ambrosi grazie ancora per avermi seguito appuntamento al prossimo tutorial ciao ciao